buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 21 aprile 2023 21 aprile è una data particolare insomma si ricorda qualcosa di importante avvenuto tanto tanto tempo fa a roma ebbene vediamo subito qual è il santo che si festeggia oggi nell'almanacco del giorno vediamo che è sant'anselmo di aosta sant'anselmo visse nell'undicesimo secolo fu un filosofo uno tra i primi che riprese la filosofia di aristotile cristianizzandola è uno dei dottori della chiesa questo è sant'anselmo di aosta vediamo le previsioni del tempo ecco qua la grafica tempo a tratto instabile specie nell'appennino con locali piovaschi e isolati temporali il clima è abbastanza gradevole le temperature si aggirano tra i 10 e 16 gradi i venti sono deboli sulle coste respireranno da una direzione di est nord est nell'interno con una tensione debole da oriente da est e le temperature sono sempre in calo il mare leggermente mosso ma comunque il fine settimana si profila in una maniera piuttosto incerta cioè in tempo è variabile e allora a questo punto possiamo aprire i giornali e dare un'occhiata subito alla notizia più importante che appare oggi sul resto del carlino eccola qua palmiere ucchielli colpito da ictus sto benino spero di rimettermi ha detto questo leone della politica è stato colto ieri mattina da un malore non sentivo più la gamba e il braccio sinistro ha detto ed è stato ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale santa croce di fano un malore presumibilmente un ictus ha colpito ieri mattina palmiere ucchielli a 73 anni sindaco di valle foglia è una storia politica della provincia veramente tra le più importanti è stato ricoverato dicevo all'ospedale di fano sottoposto subito a terapia per sciogliere il grumo di sangue che ostruiva la fluidità di una vena insomma il sangue doveva fluire correntemente al cervello dovrà rimanere in questo stato per altre 72 ore è un trombo che ha ostruito una vena comunque il tempestivo soccorso di cui è stato fatto oggetto e la cura adottata stanno tenendo dei risultati palmiere ucchielli che dire su di lui palmiere ucchielli rappresenta una fetta importante della storia della politica locale della storia ovviamente anche del partito comunista provinciale prima è diventato sindaco di colbordolo nel 1977 senza però abbandonare il suo lavoro in fabbrica è stato poi consigliere e assessore provinciale segretario provinciale del partito comunista e del pds poi deputato nel 1994 senatore nel 1996 e poi ancora presidente della provincia e ancora sindaco di valle foglia insomma veramente una carriera politica tra le più importanti come ho detto della provincia il sindaco di valle foglia ha 73 anni in politica dal 1977 appunto già deputato e senatore pds ed is facciamo tanti auguri a palmiro ucchielli ed ora apriamo il giornale sulla pagina di fano dove l'apertura è dedicata alla presentazione che si è svolta ieri del progetto del sottopasso di viale cairoli una delle strutture più importanti perché migliora il collegamento tra il centro storico di fano e il mare il lido il salotto della città ora il sottopasso ferroviario è un piccolo cuniculum spesso lordato dai vandali poi è stato anche migliorato qualificato dall'amministrazione comunale che lo ha rivalutato recentemente ora le ferrovie dello stato anzi rfi diciamo bene ha approvato un progetto importante che lo amplierà e permetterà ai disabili di percorrere la cosa che adesso non è possibile perché ci sono le scalette invece dopo ci saranno degli scivoli un percorso graduale che consentirà a carrozzine ma anche a biciclette a tutti coloro che si muovono anche con difficoltà di passare direttamente il sottopasso ferroviario e quindi di raggiungere il mare abbiamo dei rendering che pubblica oggi il resto del carlino in viale cairoli questo è il titolo un sottopasso ad alta tecnologia l'infrastruttura non sarà solo pedonale così come abbiamo detto ma accessibile a tutti priva di barriere e con un percorso sensoriale per gli ipovedenti questo è un po il rendering dicevo questa è la parte interna del sottopasso questo è l'imbocco da parte della zona verso l'incrocio tra via puccini e viale cairoli dove c'è l'ufficio succursale delle poste e quindi abbiamo per un tratto lo scivolo scoperto poi quando si arriva nei pressi dell'ex lanterna azzurra dello stabile che ha preso il posto della lanterna azzurra si immerge quindi sarà un sottopasso coperto e poi i pannelli delle scuole degli studenti abbiamo poi anche degli accorgimenti per evitare l'umidità che ora trasuda abbondantemente sporcando il sottopasso insomma una cosa veramente qualificata sia dal punto di vista della funzionalità dell'infrastruttura sia dal punto di vista dell'estetica perché quella è una zona turistica di grande di grande importanza e vediamo anche come il corriere adriatico riporta la notizia ecco qua un nuovo sottopasso in viale cairoli via tutte le barriere architettoniche i lavori per dieci mesi da giugno vincolate alle esigenze di rfi seri disagi passeggeri l'opera resterà e proprio ieri nel introdurre appunto l'esposizione del progetto massimo seri il sindaco ha detto i disagi passano le opere restano ma questa è una delle opere più importanti a cui ha dato impegno e molta attenzione l'assessore ai lavori pubblici barbara brunori che ha veramente pungolato le ferrovie dello stato perché insomma questa realizzazione si facesse al più presto quindi a lei i meriti per aver così giunto per essere giunta al traguardo un traguardo che comunque non è stato molto ben digerito anche se abbiamo visto poi che i risultati restano dai residenti e dagli operatori che nel pomeriggio di ieri hanno incontrato il sindaco hanno incontrato le ferrovie dello stato e evidenziando le loro esigenze gli operatori avvertono un disagio inevitabile migliorare la segnaletica per chi dal mare deve arrivare in centro storico senza poter utilizzare il sottopasso di viare carioli è stata una delle richieste che hanno fatto gli operatori e poi in ogni caso questi ultimi hanno dimostrato uno spirito di collaborazione perché poi quando i lavori saranno finiti se ne avvantaggeranno anche loro un altro articolo di apertura sul resto del Carlino fanesi assillati dall'inquinamento acustico l'assessore Cora Fattori lancia l'allarme in comune arrivano più segnalazioni sui rimuri rispetto a quelle sulle polveri sottili è una dichiarazione che è stata fatta nel contesto di presentazione di un progetto il progetto paesaggi sonori ebbene l'inventiva dei fanesi è veramente molto grande e non esauribile che cosa è accaduto ieri è accaduto che una società un'associazione labo si chiama un'associazione che si interessa di musica si interessa di design insomma si interessa di diverse cose ha proposto una passeggiata per scoprire i rumori i suoni della città quindi vedere con le orecchie in un certo senso ed è un'iniziativa che si svolge in più giorni diamo un'occhiata all'articolo in pratica una kermesse di cinque appuntamenti per insegnare ai cittadini la differenza tra suoni e urbani tra suoni urbani e rumori educandoli all'ascolto e chiedendo di raccontare la loro città e cosa accade accade che domani i cittadini sono invitati a partire dalle ore 11 si parte dal cinema politeama e girare per la città ascoltando i rumori e poi riempire un questionario riconsegnarlo alle 15 30 dove i tecnici appunto di questa iniziativa trarranno il loro consentivo ebbene paesaggi sonori poi avrà anche altre iniziative si è parlato di cinque appuntamenti si parte con la passeggiata sonora poi la settimana successiva l'ENS che è l'ente nazionale dei sordi metterà tutti i partecipanti dei tappi nelle orecchie per fargli ascoltare la musica tramite le vibrazioni così come l'ascoltano coloro che non hanno appunto la capacità d'udito e poi ancora tra gli appuntamenti anche la proiezione di un film per spiegare la patologia della musia e un altro per raccontare il fattore biologico della nostra vocalità quindi sono diverse iniziative assunte sottopasso e bagni stazioni nel murino nel mirino un articolo che riguarda marotta a fondo pagina del resto del carlino sono due problematiche che vengono evidenziate dai consiglieri comunali del perdì samuele mancini e luisa ceccarini sono questi consiglieri comunali del comune di mondolfo hanno presentato una interrogazione al sindaco che cosa chiedono chiedono che il vecchio sottopasso che consente di bypassare i binari collegando il lato statale adriatica per il lungomare impraticabile per i disabili motori e venga appunto adeguato e poi c'è anche un problema dato dalla soppressione dei servizi igienici che sono ritenuti particolarmente importanti ovviamente e restiamo a marotta perché a marotta che cosa accade accade che è prossima una uno degli eventi più importanti della stagione ovvero la sagra dei garagoi marotta lo scetro passa agli storici garagoi decollerà domani uno degli eventi più attesi in riviera quattro giorni tra i piaceri della tavola e il mare con tante proposte per le famiglie la ricetta dei garagoi di marotta è un classico della culinaria tradizionale marchigiana in modo particolare fanese è un sugo molto molto saporito e gustoso che si mangia con magari anche un po di pane con una bruschetta insomma cosa del genere è veramente buono si tratta di uno degli appuntamenti più longevi pensate la settanta quattresima edizione quella che inizierà domani dicevo quattro giorni di fila domani domenica lunedì e martedì l'organizzazione è della proloco di marotta con il patrocinio del comune di mandolfo e ovviamente ci sono poi tante iniziative collatorai collaterali musica giochi divertimento eccetera ma la cosa più importante è l'eno gastronomia vediamo ora la pagina di urbino dove si parla della fusione dei comuni una partita da giocare secondo il sindaco gambini per il sindaco si potrebbe creare un polo dell'entroterra che potrebbe avere la stessa importanza del polo della costa insomma una specie di contraltare però non tutti sono molto molto disposti ad accettare questa cosa ci sono visioni contrastanti specie per quanto riguarda l'ultima che potrebbe concludersi nel nostro territorio ovvero la fusione tra urbino con sasso corvaro auditore che cambierebbe i rapporti di forza l'idea è quella di spostorizzata diciamo così dal sindaco gambini ma piccoli comuni come magari è un comune come frontino che potrebbe essere della partita che poi è molto contento perché insomma sarebbe poi superato grandemente dal comune più grande quindi probabilmente anche la sua piccola autonomia sarebbe annullata poi a fondo pagina abbiamo un articolo che riguarda il partito democratico e poi viva urbino e le associazioni contro le esternazioni di la russa una presa di posizione di carattere politico ma restiamo nel monte feltro e vediamo che per scoprire l'aquila di sasso simone questo è il titolo nascerà un osservatorio speciale ebbene quello della presenza delle acque sia al furlo che in carpegna è veramente una uno dei tesori ambientali che dobbiamo custodire con la massima attenzione a fossombrone a fossombrone si è spostato l'ufficio tributi e accolli al metauro l'ufficio tributi di fossombrone trasloca appunto la domanda viene da progetto comune perché vuole sapere la ragione di questo spostamento progetto comune la lista civica gruppo di minoranza in consiglio comunale sul tema nel più totale silenzio della giunta ha dichiarato appunto progetto comune l'ufficio tributi di fossombrone trasloca coli al metauro nel consiglio di febbraio la lista aveva già espresso la propria contrarietà ma l'amministrazione comunale persegue tranquillamente il suo scopo e va avanti diritta senza ripensamenti ed ora diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi dove si parla diffusamente della bolkenstein perché il governo nulla ha potuto contro le decisioni della unione europea concessioni la rabbia dei bagnini i sacrifici fatti qui me li porto via è una reazione comprensibile quella che hanno fatto gli operatori che hanno fatto tanti investimenti hanno qualificato tutte le attrezzature delle loro concessioni e poi questi magari in una gara che privilegierà un altro concessionario verranno dati appunto a quest'ultimo i titolari sono veramente delusi dopo le sentenze dell'Europa che ieri ha confermato l'obbligo di mettere all'asta i contratti alcuni di loro hanno dichiarato se il problema sono i bassi costi che li alzino noi non possiamo essere noi a decidere comunque siamo disposti a pagare anche di più e questo è veramente una spada di più che una spada di dammo che veramente ormai è una mannaia che si abbatte sulla testa appunto degli operatori balneari i quali veramente vedono un po svanire tutto quello che hanno costruito ed è veramente un problema grande per molte molte aziende ma restiamo sul fronte del turismo restiamo sul fronte del turismo perché voglio farvi vedere sulla prima pagina del carlino nazionale questa fotonotizia abbiamo italia open meraviglia vedete questa figura femminile ebbene è un misto tra il rinascimento l'epoca attuale abbiamo il volto della venere del botticelli e abbiamo invece un corpo molto molto attuale molto moderno e questo il senso della promozione che sta facendo il governo viene evidenziata con tante altre fotografie in due pagine all'interno del giornale arte marketing e turismo la venere diventa una influencer la campagna spacca l'italia perché il sindaco di firenze dice che è un qualcosa di macchiettistico in realtà il rinascimento reso attuale rende bene qual è la propensione dell'italia quale una nazione tra le massime espressioni culturali che esistono sulla terra vedete come la botticelli moderna si accorda con piazza san marco di venezia e poi abbiamo qui altre suggestive visioni del nostro territorio ma questo rende ancora più attuale l'immedesimarsi dell'aspetto femminile nelle bellezze della nostra nazione questa è veramente una bella promozione continuiamo la segna stampa a livello locale e vediamo come c'è una protesta per la sistemazione sulle lungoporto di pesaro di tanti paletti che rovinano un po tutto il paesaggio molo di levante trafitto dai paletti il sindaco matteo ricci brutti rimuovetoli e una generale sollevazione contro queste barriere che sono state volute dalla autorità portuale servono per evitare incidenti e saranno provvisorie hanno dichiarato ma ora vogliono che vengono rimosse al più presto abbiamo visto l'articolo di palmiro ucchielli vediamo ancora a un risvolto del grande processo bio in cui furono imputate appunto di aver spacciato per biologici alcuni prodotti agricoli che in realtà biologici non lo erano ebbene le ditte sono state tutte assolte falso bio perché tutti furono assolti e in questo articolo si evidenziano le motivazioni con cui il giudice ha espresso la sua sentenza accuse troppo generiche nessuna prova che fosse una banda in 130 pagine il collegio giudicante ha condiviso le tesi difensive per una lettura alternativa dei fatti e poi abbiamo una giustizia per una famiglia di un detenuto che si è ucciso in cella villa fastigi detenuto suicida carcere inumano l'italia ammette la colpa e paga si tratta di anas zemzami che si è ucciso nel 2015 la sorella ha vinto il ricorso alla cdu ovvero alla commissione europea la corte europea di giustizia non gli furono date cure tempestive ed adeguate ha detto la commissione accusando l'italia e ora roma dovrà risarcire la famiglia con 32 mila euro giriamo ancora la pagina anzi no restiamo in questa pagina per farvi vedere i risultati economici di marche multiservizi un'azienda ovviamente che investe parzialmente sul territorio ma che guadagna parecchi soldini marche multiservizi cresce l'utile confermata la totalità dei vertici l'azienda mista pubblico privato adegua le indennità dopo un ventennio comincia l'ultimo triennio di mauro tiviroli che appunto l'amministratore delegato presidente resta andrea pierotti aumenta in maniera consistente la patra patrimonializzazione della società ebbene il valore della produzione si è attestato in 152 milioni di euro l'utile netto chiude a 15,3 milioni di euro insomma non sono noccioline per effetto di alcuni benefici fiscali l'utile di questo esercizio è maggiore a quello addirittura del 2021 e vediamo ora la pagina la pagina no abbiamo visto tutto sul resto del carlino allora passiamo subito al corriere adriatico il corriere adriatico abbiamo in apertura una dichiarazione del sindaco a margine della presentazione del piano sanitario regionale che si è svolta l'altro giorno nella sala del gonfalone a Fano presente per diversi presenti diversi esponenti della giunta a Acquaroli c'era Francesco Acquaroli il presidente c'erano diversi assessori ovviamente non mancava Filippo Saltamartini che era l'assessore alla sanità ma c'erano anche gli assessori Baldelli e Daguzzi non portate via gastroenterologia per il Santa Croce sarebbe l'inizio della fine ha dichiarato il sindaco e il corriere adriatico con un articolo di Lorenzo Furlani ora evidenzia qual è stato l'intervento del sindaco per richiedere maggiore attenzione per Fano che è stata considerata un po' la cenerentola per quanto riguarda l'esposizione di questo piano l'allarme del sindaco Seri sul depauperamento dei servizi alla regione chieste scelte condivise criticità e problemi sì alle linee strategiche ma le soluzioni non ci sono state non sono state espresse non sono state comunicate nell'incontro le scelte operative del piano non sono stati comunicati posti letto che sono poi da riequilibrare la distribuzione dei reparti ospedalieri tra l'ex azienda Marche Nord Fano e Pesaro i servizi da implementare negli ospedali e nelle case di comunità c'è stato dunque un vuoto ancora espositivo da parte della giunta per quanto riguarda il piano sanitario del piano sanitario sono stati rivelati gli intenti ma ancora non le decisioni pragmatiche quelle veramente operative ho il sospetto però ha detto il sindaco Massimo Seri ho il sospetto che il reparto di gastroenterologia venga trasferito a San Salvatore sarebbe una scelta che veramente costituirebbe un errore gravissimo che non accetterei ha detto il sindaco sarebbe l'inizio della fine per la sanità fanese insomma una decisione che è molto molto da ponderare e poi abbiamo anche un altro articolo invece che riguarda una infrastruttura importante si tratta della ciclovia adriatica che è stata discussa e presentata in una riunione che si è svolta l'altra sera a Metauriglia uno stop agli allagamenti grazie alla nuova ciclovia la giunta presenta il progetto con questa caratteristica tecnica ebbene la realizzazione della ciclovia a parte insomma la sua il suo intento principale che è quello di assicurare la sicurezza alla mobilità dolce e ora percorre la statale adriatica sud una statale molto molto pericolosa in cui si sono verificati tantissimi incidenti a parte questo la ciclovia avrà anche un risvolto di carattere tecnico di carattere idraulico l'opera sarà abbinata a un sistema di fossati che funzionerebbe come vasca di raccolta in caso di precipitazioni intense questa dunque è una delle possibilità aggiuntive che si appunto evidenziano per questa infrastruttura per quanto riguarda pergola abbiamo qui le dichiarazioni del sindaco simona guidarelli sempre in relazione alla presentazione del piano sanitario regionale e per quanto riguarda senigallia dobbiamo dire che la rotonda che il portabandiera del turismo senigalliese debuterà nei giorni nei ponti festivi da metà giugno sarà aperta tutti i giorni finito il maquillage quindi un aspetto estetico migliore il sindaco livetti ha detto deve esserci il personale per evitare che venga danneggiata questo piccolo gioiello e qui noi chiudiamo il giornale terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani mattina grazie per l'ascolto a risentirci